San Teofilo Nel nostro video, esploreremo alcune delle sue citazioni più significative, che illuminano la sua profonda comprensione della fede, della sapienza e della conoscenza divina. Continuate a guardare per scoprire l'eredità duratura di San Teofilo e come le sue parole continuano a ispirare e guidare i credenti di tutto il mondo. Come uno specchio risplendente, così deve essere pura l'anima dell'uomo. Quando invece lo specchio si deteriora, il viso dell'uomo non può più essere visto in esso. Allo stesso modo quando il peccato ha preso possesso dell'uomo, egli non può più vedere Dio. Per il fatto che i ciechi non vedono, non si può concludere che la luce del sole non brilla. Giustamente perciò essi attribuiscono la loro oscurità a se stessi e ai loro occhi. Se dici, fammi vedere il tuo Dio, io ti dirò, fammi vedere l'uomo che è in te, e io ti mostrerò il mio Dio. Fammi vedere quindi se gli occhi della tua anima vedono e le orecchie del tuo cuore ascoltano. Fa vedere se per caso non sei operatore di cose indegne, ladro, calugnatore, iracondo, invidioso, superbo, avaro, arrogante con i tuoi genitori. Dio non si mostra a coloro che operano tali cose, se prima non si siano purificati da ogni macchia. Tu hai gli occhi della tua anima annebbiati per i tuoi peccati e le tue cattive azioni. Affidati al medico ed egli opererà gli occhi della tua anima e del tuo cuore. Chi è questo medico? È Dio, il quale per mezzo del verbo e della sapienza guarisce e dà la vita. Come l'anima dell'uomo non è visibile, sottraendosi alla vista umana, ma viene percepita osservando i movimenti del corpo, così neppure Dio può essere visto con gli occhi umani, ma lo si scorge e lo si comprende attraverso la sua provvidenza e le sue opere. Se l'uomo non può fissare lo sguardo sul sole, che è una stella piccolissima, a causa della sua eccessiva luminosità, ha maggior ragione, come potrà chi è mortale contemplare la gloria di Dio, che è indescrivibile? Come il granello della melograna, rinchiuso dentro, non può vedere ciò che si trova fuori dalla buccia, proprio perché sta dentro, così pure l'uomo, circondato con l'intera creazione dalla mano di Dio, non può vedere Dio. O uomo, tu fai risuonare lo spirito di Dio, lo respiri addirittura, ma Dio tu non lo conosci. E questo ti accade per la cecità della tua mente e la durezza del tuo cuore. Grandissima è la sapienza di Dio, con la quale Egli ha fondato la terra. Con saggezza e Dio allestì i cieli, gli abissi furono squarciati e le nubi effusero rugiada. Se comprendi queste cose, o uomo, e vivi in purezza e santità e giustizia, puoi vedere Dio. Anzitutto, però, entrino nel tuo cuore la fede e il timore di Dio, allora comprenderai queste cose. Quando avrai deposto la tua mortalità e ti sarai rivestito dell'immortalità, allora vedrai Dio secondo i tuoi meriti. Grazie ancora e a presto.